L'evento fiori e sapori d'autunno organizzato da tutto in piazza nella giornata di ieri domenica 27 ottobre ha riscosso un grande successo anche quest'anno. I gazebo hanno riempito il corso del popolo di Chioggia con i loro colori e con i loro profumi. Molti tra gli stand presenti esponevano infatti i loro fiori, i loro alberi, le loro piantine, altri si erano dedicati ai sapori e tanti anche i prodotti dell'handmade. Come in passato anche ieri l'iniziativa ha riscosso molto successo e la passeggiata si è riempita già dalle prime ore del mattino con tanti curiosi che si sono fatti incantare dal variegato mondo delle piante e da tanti golosi che hanno approfittato delle tipicità di altri luoghi. La gente a dire il vero ha riempito Chioggia ma anche sottomarina godendosi un bel pomeriggio per il quale il meteo sembrava avesse previsto ben altro che la splendida giornata che ha regalato. Un enorme successo all'interno dell'evento ha riscosso la zucca di cui si sarebbe dovuto indovinare il peso. Non sappiamo ancora quanto pesasse la zucca ma abbiamo visto genitori soppesarla e confrontarne il peso prendendo poi in braccio il figlio per avere un riferimento valido. Una prova in cui si sono cimentate decine e decine di persone. Anche per i bambini più piccoli una zucca ha avuto successo quella che hanno ritratto per poi partecipare all'estrazione di un premium. Tra i vari gazebo si trovava anche quello di cuore amico che ha proposto l'acquisto di noci in cambio di un'offerta da dare in beneficenza per sostenere il reparto di cardiologia dell'ospedale di Chioggia.